Libertà di stampa e presidi di libertà, il tema del diciannovesimo appuntamento assembleare e elettivo che la FISH, Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, sta vivendo a Roma. Per luce vita, la testata della diocesi di Molfetta, Ruvo Giovinazzo e Terlizzi, sono presenti il direttore Luigi Sparapano e l'amministratore Michele Labombarda. Ascoltiamo l'intervista a Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. Quali sono le indicazioni della Chiesa Italiana a riguardo a 15 anni circa del Direttorio per le Comunicazioni Sociali? Il tema è presente ed è presente in maniera costante. Al di là delle indicazioni che possono venire dall'organo ufficiale, quindi dall'istituzione ufficiale che è la CEI, di fatto il Vangelo che cos'è? Una buona notizia. La buona notizia viene comunicata e tradiremmo la nostra essenza se non ci spenderemmo proprio sull'investire, sull'investimento nella comunicazione. Quindi il messaggio che può arrivare è quello di una maggiore qualità, una crescita qualitativa nelle risorse che vengono spese nella comunicazione. Passione, perseveranza, professionalità e qualità. Queste sono state le quattro indicazioni che Monsignor Russo, segretario della CEI, ha dato poco fa qui all'Assemblea della FIS. Ma come alimentare queste caratteristiche, queste dimensioni, soprattutto nelle realtà più periferiche, contrassegnate anche da una crisi sul piano comunicativo. Se noi recuperiamo la dimensione creativa, troveremo la risposta alle nostre difficoltà. Quale deve essere invece la strategia per quanto riguarda i settimanali cattolici? Deve essere la strategia, ovviamente non può che essere quella di riuscire a coniugare in maniera sinergica il digitale con il cartaceo. Il cartaceo probabilmente scomparirà nei prossimi decenni, però il cartaceo, l'odore del cartaceo, trasmette il profumo delle nostre comunità. I settimanali diocesani, nel loro DNA, hanno proprio quella missione di comunicare le comunità, di comunicare le persone, di comunicare tutte quelle periferie che altrimenti rimangono ai margini delle realtà e nel momento in cui non li sfogliamo è come se toccassimo la carne viva della nostra gente.